L'hanno messa in prima pagina, manco fosse morta la regina. Non ci sta più nessuno, ti hanno abbandonato tutti amore mio. Sì, dobbiamo vendere le macchine, tutto, perché non ci è rimasto più niente. Quel poraccio di tuo padre, quello, te lo dico, non tiene coraggio. Avveni né qua, né da te, e né da se non gli piglia l'infarto. Quando sarà tutto finito, quante persone mi levo davanti, quante? Una volta dimostrato, tutta quella fanga che ci hanno messo in cima e che hanno visto l'indocenza di te e di tuo fratello, saremo soltanto noi, famiglia, a casa mia. Continuiamo ad ascoltare. Intanto hanno detto, beh, l'hanno messo in prima pagina, il povero Willy. Nemmeno fosse la regina, dicono. Continuiamo ad ascoltare. Vogliono accoltellarci e ci sputano nel piatto. Noi, trattati da infami, sto da solo, un poco all'aria. Quando esco io, rientrano loro. Chi ti ha fatto i capelli? Da solo? Li ho fatti da solo. Che mangi? Mi cucino. Un problema pure il bucato. Ci stanno due panni, me li lavo da solo. Ci stanno i bravi e ci stanno quelli non bravi. Le... Non devi di niente. A chi è che ha nominato che si è c***o sotto? Era una cosa elettrica. Di più. A me non mi ha detto niente nessuno. Che ha fatto? Mi ha spaccato? Ragazzi, succede qualcosa? Il chiodo ficcato dentro il dentifricio. Ogni cosa che succede, boom. Le peggio cose. Tutto queste si portano. Il discorso è che devi stare attento, perché pure se tu stai a dormire, perché ti zeccagnano. Mi sputano nella pasta. Loro che ti portano roba da pranzo, da magnà... La pasta. Ma ti ci sputano dentro? Ma ci sputano sì, eh. E tu non te la magni. Comprati sempre la roba, tutti i giorni. Comprati tutto. E poi loro sono in carcere, no? A questo punto non ci sono parole di pentimento da parte di fratelli bianchi, ma dicono, ah, ma qua ci stanno sputando sul piatto. Gli stessi detenuti hanno un loro codice di fronte a certi reati. Sono i primi, diciamo, a fare giustizia. La giustizia che si può fare in carcere fra detenuti. Sentite che cosa dice la mamma dei fratelli bianchi che difende i figli. Non sono mostri. Non giudicateli da una foto, dice. Sentite. Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori. Parlo come mamma di quattro figli. Nessun genitore può sopportare un dolore simile. Il primo pensiero al mattino è incrociare il viso del figlio e nessuno al mondo merita una simile atrocità. Se penso alla mamma di Willy, sto male. Vorrei darle tutto il mio cordoglio, mandarle un abbraccio, ma a che servono le parole? So che la sua vita è distrutta e niente sarà più come prima. I miei figli devono pagare se hanno sbagliato, qualunque cosa hanno fatto, ma non per quello che non hanno fatto. La giustizia deve andare fino in fondo. Sono sicura che non sono stati loro ad ucciderlo. Una mamma certe cose le sa. Li giudicate per come appaiono su Facebook, ma quelle sono stupidaggini. La foto dietro le sbarra è dal parrucchiere. Gli orologi che indossano valgono 200 euro. Sono una mamma ansiosa, di quelle che non prendono sonno finché non rientrano tutti a casa. Non volevo neanche che facessero i combattimenti per paura che si facessero male. Non dovevano finire in questa situazione. Ora, davanti a queste parole, noi abbiamo una mamma qui, che è la mamma Cristina, la mamma di questo ragazzo pestato. Cristina, tu dicevi, no? Hai parlato molto con tuo figlio. Sì. Però davanti a dei delinquenti non sai che cosa fare, perché quelli sono delinquenti, quelli che hanno pestato tuo figlio. delinquenti, sì. Se tuo figlio facesse una cosa del genere, tu lo difenderesti? No, no, mai. Deve pagare per quello che ha fatto, se lo fa mio figlio in quel caso. Non ho parole per definire questo. Io penso che ci sia proprio nelle parole che avete trasmesso. Che non sappiamo neanche perché. Un problema proprio di responsabilità. Scusami, c'è un ospite che sta parlando, Vittorio. Cioè, il tema vero, dalle intercettazioni, anche dall'ascolto della madre, c'è un problema proprio di responsabilità genitoriale. Bravo. Cioè, questi coprono, sono conniventi, hanno totalmente, si sono totalmente privati del loro ruolo. Questi sono ragazzi che crescono senza un riferimento. Quando io dico genitorialità, significa regole, significa autorità, significa odorevolezza, significa responsabilità. Disciplina. Disciplina. E se queste strade, queste tracciate, li smarrisci, è chiaro che i ragazzi, in un certo modo, crescono in un'escalation di violenza. E ritroviamo le parole delle madri che giustificano e sono conniventi. Anche in altre aggressioni. Ho raccontato quella contro Arturo, ne ho fatto un libro con la madre Maria Luisa Javarone. E quando ascoltavo le parole in carcere, erano le stesse. C'è un climax di omertà, di connivenza, di irresponsabilità, di giustificazione. E ribadisco un punto su cui ci tengo tanto. Io penso che le persone debbano stare nel loro ruolo. Cioè, piuttosto che filmare, chiamate i carabinieri, urlate, cioè attivatevi per mettervi in un certo qual modo, in modo piuttosto che filmare. Però ciascuno deve fare il proprio ruolo. Cioè, i carabinieri devono fare i carabinieri e gli altri devono fare i cittadini, responsabili, coscienziosi, ma i cittadini. Allora, guardate che cosa è successo a Monza. Per cui, spostiamoci da quelle...